Salve a tutti da GTA Guidesita, grazie per aver scelto questo video. Iscrivetevi e visitate il mio sito ufficiale e il link è nella descrizione. Oggi vi spiegherò cos'è il player. Il player è semplicemente l'attore con il quale giocheremo la missione. Aprite il menu e selezionate player. Spostate l'attore dove volete, per cambiare l'attore premete il tasto Y oppure il tasto N, quando avrete scelto premete spazio. Dopo potrete scegliere l'arma del player, per cambiare arma premete Y o N, e anche questa volta quando avrete scelto premete spazio. A questo punto potrete decidere se cambiare la vita al player, per farlo selezionate l'opzione Alt che significa vita e scegliete il valore che preferite premendo spazio. Infine selezionate l'opzione Ready. Grazie per aver visto questo video commentate e mettete un pollicione verde in su.